In tre mesi e mezzo l'Italia ha dunque vaccinato metà della popolazione con più di 12 anni. Uno sforzo straordinario per cui dobbiamo essere grati al nostro sistema sanitario a partire da medici e infermieri e all'immane opera logistica che è stata compiuta sin dall'inizio di questo Governo. Voglio inoltre ringraziare ancora una volta tutti i cittadini che hanno scelto di vaccinarsi, in particolare i giovani e i giovanissimi, e anche chi ha deciso di farlo nelle scorse settimane dopo aver superato le proprie esitazioni. La curva epidemiologica è oggi sotto controllo grazie al senso di responsabilità dei cittadini. Questo ci permette di tenere aperte le scuole, le attività economiche e i luoghi della nostra società. Il Consiglio europeo riaffermerà il proprio impegno a contribuire alla solidarietà internazionale in materia di vaccini. Dobbiamo incrementare la fornitura di dosi ai Paesi più fragili perché possano proteggere i loro cittadini e per impedire l'insorgenza e la diffusione di nuove e piccoli.